Ergon al viale procedure per 46 licenziamenti. Maltempo, pochi disagi, con i temporali ancora caduta di alberi. Comune di Polla e Tributi, anno zero e sindaco Giuliano, fare chiarezza e pagare tutti per pagare meno. Padula e liceo scientifico Pisacane, unico istituto della provincia salernitana, riconosciuto per il quadriennale sperimentale. Domenica 4, segreteria a disposizione per le iscrizioni. Salerno, arte, genio e follia. Ieri il primo appuntamento organizzato in collaborazione tra Circolo Carlo Alberto e Associazione Giustino Fortunato. Buonasera e bentrovati all'edizione serale del nostro telegiornale. In apertura la vicenda Ergon. Alvia infatti il licenziamento collettivo per 46 dei 70 dipendenti dell'ente. I lavoratori dovranno poi essere inseriti nel nuovo ato. I dettagli nel servizio di Giuseppe Opromolla. Era stato annunciato alcuni giorni fa dal commissario liquidatore della Ergon, Fabio Condemi, durante l'incontro con i dipendenti nella sede di Polla. Così è stato. Sono state avviate le procedure per il licenziamento collettivo di 46 dipendenti. I lavoratori, che da mesi non ricevono lo stipendio, nella settembre 2016 hanno chiesto l'aspettativa non retribuita per partecipare ad alcuni corsi di riqualificazione professionale indetti dalla Regione. Corsi necessari al successivo inserimento dei lavoratori negli ato, ambiti territoriali ottimali che andranno a costituirsi. Tra ottobre 2017 e gennaio di quest'anno i lavoratori hanno partecipato ad un altro progetto della Regione. Chiusa questa fase, ed è storia recente, i dipendenti si sono recati al lavoro ma hanno trovato i cancelli chiusi. L'incontro con il commissario Condemi ha ulteriormente chiarito la situazione qualora ce ne fosse ancora bisogno. Non vi sono possibilità che l'azienda riprendi la propria attività lavorativa e quindi ci sono esuberi. I lavoratori licenziati dovranno essere assorbiti dagli ato, ma scelte e tempi di ricollocamento non dipendono dalla Ergon ma dalla Regione perché sono loro a gestire il servizio, ha dichiarato Condemi. Il commissario, riferendosi agli arretrati dei lavoratori, era stato chiaro lo scorso 19 gennaio. La Ergon sta cercando di recuperare i crediti dai comuni. Ci sono in corso le azioni giudiziarie al termine delle quali vedremo le somme che sono state recuperate per procedere alla liquidazione e a pagare le debitorie, che tradotto vuol dire quando i comuni pagheranno gli arretrati l'azienda potrà saldare anche i propri dipendenti. In tutta questa situazione c'è anche il caso di un dipendente che nei giorni scorsi ha diffidato la Ergon perché in maniera del tutto arbitraria ed ingiustificabile gli viene impedito di lavorare e ha avanzato una richiesta di risarcimento danni a causa di tale comportamento da parte dell'azienda. Ed ora cambiamo argomento e parliamo del maltempo e delle piogge intense che hanno interessato il Vallo di Diano la scorsa notte. Rimangono in allerta i vigili del fuoco e la protezione civile. Intanto si registra la caduta di un albero sulla strada che collega Sant'Arsenio a Polla. Anna Maria Cava. Piogge intense e vento forte si è abbattuto su tutta la regione Campania e anche nel Vallo di Diano nella serata di ieri. Notte intensa, seppur senza gravi conseguenze, anche per i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina oltre che per i vari nuclei di protezione civile distribuiti su tutto il territorio valdianese che nella serata di ieri erano stati allertati dalla regione Campania attraverso il bollettino meteo in cui si annunciavano criticità di allerta meteo gialla. La situazione prevedeva infatti una criticità ordinaria con rischio idrogeologico localizzato a causa anche di intense precipitazioni sparse. Fortunatamente nessun particolare danno o disagio si è registrato, se non un ennesimo caso di caduta a alberi lungo la strada provinciale che collega Sant'Arsenio a Polla e che non ha provocato danni a persone o cose. Nulla di preoccupante dunque nel bilancio della nottata appena trascorsa con la criticità meteorologica ravvisata dalla protezione civile e durata per tutta la giornata odierna. Resta però la preoccupazione per i numerosi casi di caduta a alberi che continuano a registrarsi ad ogni evento temporalesco o in caso di forte vento. Troppe volte purtroppo con casi di caduta a alberi anche sulle arterie stradali particolarmente trafficate e che solo per un caso fortuito fino ad ora non ha provocato danni irreparabili. Andiamo avanti e ci spostiamo a Polla. Fare chiarezza sulle situazioni tributarie per egressi. E questo è l'obiettivo del Comune di Polla. E sul caso cartelle pazze della Soget, incontro tra sindaco e funzionari per trovare una soluzione alle sanzioni aggiuntive per i cittadini morosi. Vediamo. Il Comune di Polla ha avviato un percorso volto a fare chiarezza sulle situazioni tributarie pregresse dando certezza a tutti i rapporti definendo tutte le posizioni con l'obiettivo di riuscire a ridurre il peso delle tasse restituendo un beneficio a chi le ha sempre pagate regolarmente. Al tempo stesso l'amministrazione guidata dalla sindaco Rocco Giuliano va tra virgolette in soccorso dei cittadini che si trovano in una posizione di sfavore o di particolare debolezza nei confronti dell'erario. In questa ottica un esempio è la rotamazione delle cartelle. Un nuovo corso a cui è stato dato il via libera con delibera di giunta che prevede l'aggiornamento e l'integrazione dei regolamenti, degli atti amministrativi e la predisposizione di un regolamento ad occhi in materia di mediazione tributaria. Quest'ultima materia, essendo un'attività molto difficile e spigolosa ha spinto l'amministrazione a conferire l'incarico di consulente amministrativo all'avvocato Nicola Senatore che accompagnerà il Comune nella modifica dei regolamenti e nella predisposizione degli atti individuando anche gli strumenti legislativi da utilizzare per raggiungere tale scopo. Intanto sul fronte delle cosiddette cartelle SOGET nei giorni scorsi si è tenuto un incontro tra il sindaco Rocco Giuliano e i funzionari della SOGET per risolvere la questione legata alle sanzioni aggiuntive applicate ai cittadini morosi. La volontà si legge nella nota stampa dell'amministrazione pollese è annullare le sanzioni cercando di far pagare ai cittadini soltanto le tasse dovute. Allo studio c'è anche una collaborazione con l'Agenzia delle Entrate. Vogliamo cercare di alleviare il peso della pressione fiscale, ha dichiarato il sindaco Rocco Giuliano, perché le tasse le dobbiamo pagare tutti ma dobbiamo pagare il giusto. Chi non le ha pagate in passato è in difetto ma noi vogliamo cercare di entrare incontro a tutti permettendo di saldare il debito senza l'aggravio di pesanti sanzioni. Riuscire a raggiungere l'equità nel pagamento dei tributi, ha concluso Giuliano, non solo genererà un introito maggiore nelle casse comunali ma alla fine toccherà a vantaggio degli stessi cittadini vistuosi garantendo la diminuzione delle imposte. La comunità montana dovrebbe lasciare a breve l'attuale sede ubicata nella certosa di San Lorenzo a Padula come da richiesta del sindaco Paolo Imparato, che avrebbe fatto pervenire al presidente Raffaele Accetta la lettera in cui si chiede di liberare i locali. Una decisione già nell'area da diverse settimane ma che assume ora anche note che potrebbero rivelarsi dolorose economicamente per la sussistenza di accordi di vecchia data tra comune di Padula e comunità montana. I locali in cui insiste l'ente montano sono stati in passato oggetto di lavori di ristrutturazione realizzati a spese della comunità montana Vallo di Diano, spese che sarebbero state poi detratte dal fitto spettante al comune. Da qui la risposta di Raffaele Accetta che alla luce anche dei documenti redatti in passato e degli accordi intervenuti tra i due enti sin dal lontano 1999, ha chiesto al comune di Padula per lasciare i locali la somma di 180 mila euro pare alle quattro annualità di fitto che erano compresi nel recupero delle spese di ristrutturazione dei locali e che non possono essere detratte dal fitto per la sopravvenuta volontà del primo cittadino padulese di riprendere anticipatamente possesso dei locali. Ci sono delle posizioni da chiarire, fa sapere il presidente della comunità montana Vallo di Diano, Raffaele Accetta, che possono essere valutate solo dopo una valutazione dei documenti in cui sono stati regolamentati i rapporti tra il comune di Padula e l'ente montano a partire dal 1999. Andiamo avanti e cambiamo decisamente argomento. Al prossimo Consiglio Comunale che si terrà a Sanza, l'Assise sarà chiamata a pronunciarsi su un tema delicato, quale la violenza sulle donne. Sarà ratificata anche in Consiglio la delibera di giunta che vede l'amministrazione guidata dal primo cittadino Vittorio Esposito intenzionata a costituirsi come parte civile nei processi per femminicidio e violenza su donne e minori. Anna Maria Cava Anche il comune di Sanza, come Padula, è pronto a costituirsi parte civile nei processi penali per casi di violenza su donne o minori. L'amministrazione comunale, nella prossima seduta di Consiglio, proporrà per la discussione la delibera di giunta approvata lo scorso 15 gennaio sul richiesta dell'assessore alle politiche sociali Marianna Citera, in cui è stata stabilita l'eventuale costituzione del comune parte civile nei procedimenti penali per femminicidio e atti di violenza su donne e minori che si verificano sul territorio comunale. La decisione è frutto della volontà condivisa della stessa amministrazione di avviare una serie di iniziative che coinvolgeranno la consulta locale delle donne e del centro antiviolenza retusa, a fine di assistere e dare sostegno a donne e minori vittime di violenza, rispondendo così ai principi sociali, civili e culturali ispirati dallo statuto comunale. Lo avevamo indicato nelle scorse settimane, spiega l'assessore Marianna Citera, come una priorità per il 2018. Ora la giunta, con voti unanimi, ha approvato l'atto di indirizzo che vedrà la nostra amministrazione, anche attraverso associazioni capaci di sostenere giudizialmente e gratuitamente il comune, costituirsi parte civile nei procedimenti penali legati a fenomeni di violenza su donne e minori. Le somme eventualmente percepite dall'ente a titolo di risarcimento danni, spiega inoltre Citera, saranno devolute ai servizi sociali del comune. Nel prossimo consiglio comunale, conclude, chiederemo all'assise di sostenere questa decisione che riteniamo necessaria. Sulla questione è intervenuto anche il sindaco Vittorio Esposito, che analizza anche i dati generali e recenti per quanto riguardano i casi di violenza su donne e minori, come indicato anche sull'atto deliberato, in cui si parla di un aumento dal 2011 di circa 100 casi all'anno in Italia. Il fenomeno legato ad atti di violenza su donne e minori, sottolinea il primo cittadino, è purtroppo in aumento, nonostante la tanta informazione sul tema. Non dobbiamo quindi incorrere nell'errore di pensare che tali atti, nelle nostre piccole comunità, non si verifichino. Tutt'altro. Riteniamo pertanto necessario, come amministrazione comunale, attivarci per aumentare la sensibilizzazione sul tema. Prossimamente, annuncio esposito, promuoveremo l'incontro pubblico alla presenza della consigliera di pari opportunità della regione Campania, Domenica Maria Lomazzo, e di altre autorità e donne impegnate sul tema. La nostra scelta, conclude, è frutto di una sensibilità che le amministrazioni comunali devono mostrare verso queste argomentazioni al fine di innescare quel processo culturale e virtuoso che possa davvero cambiare le cose. Altro grande riconoscimento per il liceo scientifico Carlo Pisacane di Padula, che si rivela sempre più un'eccellenza in tutta la provincia di Salerno. Ieri sera la notizia che il MIUR ha riconosciuto il Pisacane come unico liceo della provincia autorizzato alla sperimentazione del quadriennale, approvando quindi il progetto presentato dall'istituto diretto dalla professoressa Liliana Fersola. Tre sono in totale gli istituti salernitani che sperimenteranno il diploma in quattro anni anziché cinque. Sono il Tasso, il Daprocida di Salerno città e il Pisacane di Padula, per l'appunto. Grande orgoglio e soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica che ai nostri microfoni ha spiegato in cosa consiste il liceo quadriennale e come è possibile iscrivere i ragazzi alla selezione. Soddisfatta per il risultato ottenuto anche il vice sindaco di Padula e delegata all'istruzione Michela Acimino, che abbiamo intervistato insieme alla dirigente scolastica. Ascoltiamole. Proprio oggi, che siamo a due o tre giorni dalla chiusura del termine per le iscrizioni, abbiamo oltre all'entusiasmo la responsabilità di far conoscere che ancora ci si può iscrivere a questo liceo quadriennale. Quali sono i vantaggi? Anzi, voglio essere più preciso, voglio dare notizie, cioè ci si può iscrivere anche direttamente da casa propria fino a martedì alle ore 20 di sera. Se non dovesse esserci, perché il Ministero non si è attrezzato, nella cartella delle iscrizioni la voce liceo quadriennale, perché siamo pochissimi e ancora non hanno aperto una finestrella apposta per questo, non fa nulla. Ci si può iscrivere e poi si comunica a scuola, anche informalmente, che si intende far partecipare i propri figli alla selezione. Allora, questo liceo quadriennale consiste in due bienni. In Europa è ambiamente sperimentato. È una sperimentazione che si basa sui risultati positivi che sono stati raccolti all'estero e che hanno visto però i nostri giovani in una condizione di non competitività con i giovani delle altre nazioni, in cui il ciclo secondario si conclude in quattro anni. I nostri entrano nella competizione con un anno più tardi. E oggi sappiamo che il fattore tempo e il fattore freschezza della giovinezza conta moltissimo, soprattutto nell'ambito intellettuale. In che cosa consiste questo liceo? Il curriculum del liceo quadriennale si baserà su quattro assi di competenze e quindi il piacere, dico piacere perché diciamo è un piacere studiare quando siamo messi nella condizione di poterlo far bene. Il gusto dell'apprendimento sarà suddiviso in quattro grandi aree che in effetti vengono proprio definiti dalla legge come assi. E sono quattro assi nei quali convergono le varie competenze. Quindi si avrà un approccio organico al sapere. Noi come amministrazione, come delegata, esprimo con tutta la nostra soddisfazione per questo grande risultato che abbiamo avuto. Ma ovviamente un plauso va per la dirigenza di tutto il liceo scientifico ma soprattutto alla nostra dirigente qui accanto a me la professoressa Liliana Ferzola. E noi con grande orgoglio, veramente con grande soddisfazione siamo contenti non solo per quanto riguarda per Padula ma per l'intero Vallo di Diano per questa grande soddisfazione che abbiamo avuto. Anche perché sono in cento paesi, è stato l'unico nel Vallo di Diano scelto come liceo quadriennale. Noi come amministrazione abbiamo un bel rapporto insomma con tutto lo staff del liceo scientifico. Difatti siamo messi subito a disposizione per il piano che già stanno facendo dei progetti loro giù. Quindi speriamo che, come abbiamo già potuto vedere da qualche iscrizione, che si riempisse tutto con le nuove iscrizioni per questo bel risultato che abbiamo ottenuto. E l'intervista integrale alla dirigente Ferzola andrà in onda questa sera subito dopo il nostro telegiornale. Intanto tutto il progetto approvato dal MIUR è pubblicato sul sito internet del liceo scientifico Pisacane all'indirizzo www.icipadula.gov.it. Inoltre domenica 4 febbraio dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle 19 presso la sede del liceo scientifico Carlo Pisacane la segreteria sarà a disposizione per aiutare nella procedura di iscrizione online e i docenti inoltre saranno presenti anche per fornire tutte le informazioni utili sul liceo quadriennale sperimentale. Ora ci spostiamo invece a Sant'Arsenio. Domani dalle ore 16 alle ore 19 e 30 si terrà l'ultimo open day dell'istituto di istruzione superiore Antonio Sacco. diretto dalla professoressa Rosaria Murano. I genitori e gli allievi dell'ultimo anno delle scuole medie potranno essere informati sull'offerta formativa e tutte le altre attività grazie al personale addetto che fornirà tutte le informazioni necessarie. Andiamo avanti e cambiamo argomento. Ancora scuola. Ancora scuola l'8 e il 9 febbraio prossimi presso l'istituto Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina verranno le selezioni per l'ammissione ad un nuovo corso di istruzione e formazione. Intanto un nuovo importante riconoscimento per l'istituto per quanto riguarda l'indirizzo geometra. Vediamo. Tutto pronto all'istituto di istruzione superiore Marco Tullio Cicerone per un nuovo corso di istruzione e formazione tecnica superiore. L'8 e il 9 febbraio prossimi si terranno le selezioni per l'ammissione al corso per la gestione ecosostenibile delle filiere agroalimentari tipiche della tradizione enogastronomica svolte nel plesso dell'istituto. Parteciperanno 65 ragazzi provenienti da tutte le province campane e ne verranno scelti 20 con i corsisti selezionati che inizieranno le lezioni il 18 febbraio sempre nella stessa sede. Un nuovo importante progetto dunque a dimostrazione del costante impegno dell'istituto nell'agevolare la formazione dei ragazzi sia didattica sia umana. Ma le novità non finiscono qui visto che un prestigioso riconoscimento è stato ottenuto dall'indirizzo geometra per la costruzione, l'ambiente e il territorio sempre dell'istituto salese. Il Marco Tullio Cicerone sarà premiato infatti il prossimo 9 febbraio a Napoli per essersi classificato nelle prime tre posizioni del concorso dal titolo Campania Love differenziata, ogni cosa al posto giusto rivolto a tutte le scuole secondarie di secondo grado della campania. I ragazzi del geometra riceveranno il premio per la sezione Filmeco per aver realizzato un filmato che ha descritto le varie fasi della progettazione e della sperimentazione di un calcestruzzo innovativo ottenuto con sabbia proveniente da pneumatici fuori uso e polvere di marmo. Un mese di febbraio ricco di novità positive sperando in un crescendo continuo degli istituti del comprensorio così da potenziare l'offerta didattica e permettere ai giovani di effettuare scelte consapevoli in base alle proprie attitudini. E dopo il telegiornale, l'intervista integrale realizzata alla dirigente Ferzola andrà in onda il quarto appuntamento di teatro a Casa Marone. Protagonista della serata, la compagnia Samarcanda di Battipaglia che ha portato in scena Serata Omicidio. Uno spettacolo a metà strada tra un giallo e una commedia divertente quasi tutta al femminile. Ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria torniamo tra pochissimo con tutte le nostre notizie. Ben trovati alla seconda parte del nostro telegiornale. Il Consiglio di Stato ha colto il ricorso contro la nomina nel direttore del Palazzo Ducale di Mantua, l'austriaco Peter Asman. Ora la parola passa alla dunanza plenaria. Intanto Zug Trigel dichiara questo può farci sperare che questa situazione ingarbugliata possa essere chiarita una volta per tutte. Giuseppe Opromolla Dopo 16 decisioni dell'altare e 6 del Consiglio di Stato quest'ultimo cambia linea e rimette la decisione sui direttori stranieri dei musei alla dunanza plenaria. Cosa penseranno nel mondo? Si interroga piccato il ministro dei beni e attività culturali Dario Franceschini che affide ai social il suo sfogo post sentenza del Consiglio di Stato che accoglie il ricorso presentato contro la nomina del direttore del Palazzo Ducale di Mantua l'austriaco Peter Asman Il pomo della discordia è semplice alla procedura di selezione potevano partecipare tutti i cittadini membri di uno Stato dell'Unione Europea che non fossero italiani secondo il bando del MIBACT del 7 gennaio 2015 mentre il Tarlazio il 25 maggio 2017 aveva stabilito il contrario Ieri la sesta sezione del Consiglio di Stato che aveva dato il via libera alla selezione pubblica internazionale per il direttore del parco archeologico del Colosseo ha rimandato ogni decisione all'assemblea plenaria la quale dovrà, come si suol dire, dettare legge in quanto chiamato a risolvere su una questione sulla quale vi è un contrasto giurisprudenziale La decisione che arriverà da Palazzo Spada potrebbe avere ripercussione anche sui direttori campani il francese Sylvain Belenguer e il tedesco Gabriel Zuchtriegel il primo che guida a Napoli il Museo del Real Bosco di Capodemonte e il secondo che ha 37 anni e dall'agosto 2015 dirige il parco archeologico di Pestum Zuchtriegel, al mattino, ha dichiarato colgo preoccupazione del Consiglio di Stato che ha l'intento di andare fino in fondo alla questione questo può farci sperare che questa situazione ingarbugliata possa essere chiarita una volta per tutte quanto al dibattito sui direttori stranieri aggiunge oggi non ha senso ci sono tantissimi italiani che lavorano benissimo in Italia e all'estero se i direttori dei musei i direttori d'orchestra i professori universitari i ricercatori lavorassero soltanto nei paesi di origine si avrebbe un impoverimento per tutti e domani presso l'ospedale Luigi Curto di Polla a partire dalle ore 8.30 sino alle 12.30 si terrà la raccolta sangue la giornata rientra nel calendario degli appuntamenti mensili e nella campagna Corri a Donare ascoltiamo Antonella Citro Quando due gocce formano un cuore capisci il senso della vita è lo slogan scelto per la campagna di donazione del sangue domani dalle 8.30 alle 12.30 presso il centro trasfusionale dell'ospedale Luigi Curto di Polla è in programma la raccolta sangue straordinaria sono 200 le donazioni registrate solo nel mese di gennaio annuncia intanto il dottore responsabile della struttura Carmine Oricchio un ottimo trend che spero continui tutto l'anno in quest'ultimo periodo siamo riusciti a risolvere con successo tre casi anche in modo particolare insomma c'è sempre bisogno di sangue fresco per trasfonderlo e si cercano continuamente donatori per rispondere al meglio all'esigenza del territorio gli uomini possono donare ogni tre mesi mentre le donne due volte l'anno ma se è in menopausa è soggetta a un intervallo di 90 giorni tra una donazione e l'altra e domani in occasione della raccolta sangue straordinaria scende in campo puntuale come sempre anche il gruppo donatori Fratres Vallo di Diano teniamo costantemente sotto controllo le donazioni chiamando i nostri abituali donatori riferisce il presidente Benedetto Mazzariello importante è donare due nostre collaboratrici soprattutto sono molto attive in realtà l'emergenza è concentrata maggiormente sui gruppi zero negativo tuttavia il centro pollese riesce a rispondere bene alle domande ogni mercoledì abbiamo pensato di dedicarci alle donazioni multi-component continua il dottor Oricchio cioè quelle che avvengono con un separatore cellulare quanto mai appropriato allora il hashtag scelto per la campagna di sensibilizzazione corri a donare per richiamare la donatore al gesto nobile della donazione appunto il prossimo appuntamento intanto è fissato per sabato 17 febbraio in regione Campania la Pro Empower lancia una gara d'appalto per risolvere il problema dell'autogestione del diabete mellito al centro dell'iniziativa il paziente che sarà seguito da uno specifico team vediamo Pro Empower il progetto finanziato dal programma di ricerca e innovazione di Horizon 2020 dell'Unione Europea ha lanciato in regione Campania una gara d'appalto per individuare una soluzione per l'autogestione del diabete di tipo 2 mellito che agevolerà l'assistenza alla persona chiunque sia interessato può accedere ai documenti della gara all'indirizzo proempower.eu le stazioni appaltanti di Pro Empower sono alla ricerca di una soluzione per la gestione del diabete che affronti i bisogni insoddisfatti nell'attuale trattamento del diabete come la frammentazione del sistema sanitario l'inefficacia la dipendenza della farmacoterapia la diagnosi tardiva della stessa malattia e l'aumento della frequenza delle complicanze gravi secondo quanto stabilito ciò sarà realizzato fornendo assistenza personalizzata e multidisciplinare ai pazienti diabetici responsabilizzandoli affinché diventino attori del processo di cura la soluzione cioè anche in campagna affronterà il bisogno di stratificazione dei pazienti in base al rischio e promuoverà l'adozione di un approccio basato su un team multidisciplinare le cure saranno basate sulla persona guidata da un sistema di supporto decisionale e personalizzato che renderà più facile impostare gli obiettivi di trattamento adeguati il progetto prevede la progettazione prototipazione e sviluppo test e convalida dopo ogni fase verranno effettuate valutazioni intermedie per selezionare le migliori soluzioni concorrenti durante ciascuna fase verranno selezionati i progetti con il miglior rapporto qualità-prezzo ai quali verrà offerto un contratto specifico i soggetti interessati hanno tempo fino alle 12 del 21 marzo per presentare un'offerta all'indirizzo vendors chiocciolaproempower.eu E allora torniamo a Sala Consilina il 4 febbraio ricorre la giornata della vita sul tema il Vangelo della vita gioia per il mondo ed anche la diocesi di Teggiano Policastro vi va a questo momento nella chiesa di Sant'Anna Sala Consilina alle ore 16.30 ci sarà l'accoglienza alle 16.45 si terrà l'adorazione eucaristica e alle ore 17 la testimonianza interverranno per l'occasione Giuseppe D'Arpino della fondazione Exodus di Don Antonio Mazzi il professor Francesco D'Andolo della comunità di Sant'Egidio e Marco Giordano presidente del progetto Famiglia concluderà l'evento il vescovo Monsignor Antonio De Luca andiamo avanti ieri sera presso la sede dell'associazione Giustino Fortunato a Salerno si è tenuto un primo appuntamento organizzato in collaborazione con il circolo sociale Carlo Alberto 1886 e con il supporto della Banca Montepruno dopo la stipula del protocollo di amicizia i dettagli nel servizio si rafforza ed entra nel vivo la collaborazione tra il circolo sociale Carlo Alberto 1886 di Padula e l'associazione Lucana Giustino Fortunato di Salerno lo scorso settembre la stipula dell'accordo di collaborazione frutto anche della partecipazione della Banca Montepruno che in un certo senso ha avuto anche il ruolo di collante tra i due sodalizi che operano entrambi su temi culturali e sociali nelle aree di riferimento quale Padula e Salerno aree su cui ha iniziato ad operare attivamente l'istituto di credito diretto da Michele Albanese e che proprio nei giorni al ridosso della stipula del protocollo di intesa aveva inaugurato le nuove sedi di Padula in via nazionale e di Salerno in via Settimio Mobiglio ieri sera poi primo appuntamento organizzato a Salerno in collaborazione tra l'associazione Lucana Giustino Fortunati presieduta da Rocco Rosolia e il circolo sociale Carlo Alberto 1886 del presidente Felice Tierno presente all'incontro sul tema arte, genio e follia anche il direttore della Banca Montepruno Michele Albanese e il vice presidente dell'istituto di credito Antonio Cigniello l'evento che si è aperto con il saluto del presidente dell'associazione Giustino Fortunato Rocco Rosolia si è rivelato anche particolarmente interessante grazie alla conferenza della professoressa Emma Russo Carrara che ha analizzato le varie opere d'arte raccontando dal punto di vista psicologico il pensiero degli artisti il direttore Michele Albanese nel corso del suo intervento ha voluto innanzitutto esprimere un forte ringraziamento agli amici di Salerno molti dei quali presenti in sala per aver contribuito ad ottenere gli importanti e soddisfacenti i risultati della filiale di Salerno nei primi mesi di presenza nella città Michele Garone uno degli organizzatori del primo trail Madonna di Sito Alto al microfono di Antonella Citro parla dell'evento in programma il prossimo 10 giugno intanto il trail del Vallo di Viano inserito come sesta tappa nel circuito Campania ascoltiamolo Michele Garone il prossimo 10 giugno il primo trail Madonna di Sito Alto un appuntamento importante per gli appassionati di sport e non solo innanzitutto cos'è il trail? Il trail è una corsa in montagna tra l'altro bellissima perché viene svolta in natura la giornata del 10 giugno noi inizieremo questa gara che partirà da Piazza Umberto I il punto più alto Madonna di Sito Alto iniziando appunto da salire da San Pietro andiamo verso Allegra Core per proseguire verso il Fontanino Madonna di Loreto e poi andiamo verso la zona che chiamiamo la Lovata in dialetto in italiano la Levata dove si alza il sole per raggiungere un ingrocio detto la Croce di Marsico in effetti il convine tra la Basilicata e la Campania come dicevo prima si raggiunge il punto più alto 1467 metri sul livello del mare di Montesito Alto per scendere per il sendiro dei Pellegrini raggiungere il castello successivamente la valle e ritornare di nuovo a Piazza Umberto I questa è una gara che fa parte del circuito Campania Trail noi siamo alla sesta tappa e quindi siamo orgogliosi di aver portato il nostro territorio appunto un territorio regionale cioè un ambito regionale abbiamo aperto l'iscrizione il primo gennaio facendo un calendario del primo gennaio fino al 28 avendo una modica cifra di 5 euro e dal primo marzo al 30 aprile 7 euro dal primo maggio al 7-8 di giugno 10 euro abbiamo già una conseguiva presenza di iscritti abbiamo circa 20 iscritti non ricordo male 17-18 e sì abbiamo tre regioni confinanti Calabria Puglia e Basilicata che in effetti si sono iscritti abbiamo appunto numerose persone che ci sono informate poi sul sito viene molto visitato da numerosi appassionati e niente siamo fiduciosi che quel giorno appunto avremo un bel numero di presenze l'obiettivo è di raggiungere quantomeno 100 presenze termina qui l'edizione serale del nostro telegiornale vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento di serata per essere stati con noi per essere stati con noi